ciao bambini eccoci qui alla terza lezione sul corsivo oggi vedremo alcune legature un po' speciali vi ho fatto un gruppo in cui c'è la o e alcune consonanti la i e alcune consonanti alcune consonanti che si legano in modo un po particolare ma partiamo da or faccio la mia gambetta intanto ricordatevi pinzetta e appoggio faccio la mia gambetta faccio il cerchietto dopodiché invece di fare il cappellino parto dall'alto come se dovessi fare il cappellino e faccio la mia or om lo stesso gambetta cerchietto a questo punto partendo da dove dovrebbe partire il cappellino faccio la mia mi raccomando staccando ogni volta ol gambetta cerchietto partendo da dove dovrebbe partire il cappellino salgo verso il soffitto alto e scendo o gambetta cerchietto a questo punto invece faccio il mio cappellino e poi non faccio la gambetta della ma direttamente faccio la mia job la mia c cadetta cerchietto faccio il cappellino ea questo punto partendo da dove è finito il cappellino faccio il mio cerchietto della ad salgo di giro o gambetta cerchietto faccio il mio cappellino partendo dal cappellino faccio il mio cerchietto della G e poi scendo e allungo passiamo al gruppo della IR gambetta faccio la mia I ok, io mi sono fermata ma potevo continuare oppure in questo caso ripartire a dove è finita la mia I e uno, due, tre lo stesso, gambetta I, non mi fermo e faccio la prima mi ricordo del puntino seconda gambetta, terza gambetta il, anche qui, gambetta, stacco non mi fermo, salgo su allungo IC I qua mi posso fermare allungando un pochino metto il puntino e parto con la K quindi non faccio la gambetta della K IT lo stesso gambetta I mi fermo il puntino da dove ho finito la mia I parto con il cerchietto giro e mi fermo IG I puntino stacco cerchietto della K e allungo bene ora passiamo alle consonanti allora per quanto riguarda M P faccio una gambetta due gambette tre gambette e allungo per fare la gambetta della P vedete alla terza gambetta ho allungato scendo e faccio la gambetta della P per quanto riguarda la B invece faccio la mia M uno due alla terza non mi fermo continuo salgo fino al soffitto e faccio l'archetto dr faccio il mio cerchietto quando parto dal soffitto scendo non mi fermo e salgo fino al soffitto basso archetto e scendo pr faccio la mia P quando faccio la gambetta non mi fermo arrivo fino al soffitto basso archetto e poi scendo penultima faccio la mia R normalmente stacco e aggiungo la G mi raccomando la G deve essere alla stessa altezza della R non devo farla sopra ma la stessa altezza passiamo a R faccio la mia R quando faccio l'ultima gamba allungo continuo e faccio anche la prima della M ecco qua bene ora vi saluto la prossima volta faremo le lettere maiuscole ciao ciao ciao